Avio, il gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, ha chiuso il 2017 con ricavi record pari a oltre 340 milioni di euro, in crescita del 18%, grazie soprattutto ai nuovi programmi Ariane 6 e Vega C e ai motori di nuova generazione P120C e Zephyro 40 interamente realizzati in Italia. Aumenta anche l'ebitda adjusted del 28%, pari a 46,5 milioni. In forte rialzo anche l'utile netto con 21,8 milioni di euro, un risultato sette volte superiore rispetto al 2016. Migliora poi la posizione finanziaria netta a 42 milioni di euro, in controtendenza rispetto al segno negativo di 18,6 milioni registrato nel 2016. Risultati record anche per il portafoglio ordini che sfora il miliardo di euro e garantisce all'azienda di Colleferro la crescita e lo sviluppo dei prossimi tre anni.